Quando noi sogniamo sappiamo che è molto importante avere sempre la gola bene aperta, questo per favorire il flusso dell'aria e per evitare di avere un suono stretto, un suono strozzato. Ma come fare per esercitarci a tenere la gola aperta? Uno degli esercizi più semplici e anche facili da eseguire è quello di cantare mentre noi eseguiamo le note lunghe, in questo modo. E adesso se sogniamo possiamo immediatamente percepire un suono molto più ampio e anche molto più libero e questo è un sistema molto facile per aiutarci a mantenere la gola bene aperta. Grazie, alla prossima video lezione.